Con apposito provvedimento, l'AIFA ha disposto un ritiro dal medicinale della ditta Pfizer SRL Accuratic 20 mg più 12,5 mg 14 compresse rivestite con film IC numero 028295018 Lotti numero CM2641 scadenti il 30 04 2022 numero CJ7190 scadenza 34 2022 numero FF8042 scadenza 34 2024 numero FJ719 scadenza 34 2024 Il ritiro è stato disposto volontariamente dalla ditta Pfizer SRL a seguito della comunicazione concernente possibile presenza di nitrosamine in confezioni del medicinale e dei sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 219-2006 Grazie a tutti